A fine giornata, per chi sta lavorando veramente Oggi siamo a Via Nazionale davanti alla sede della Banca d'Italia La prima porta a destra è quella della cassa forse Noi facciamo il pane Io faccio il cane Andiamo a chiedere alla gente se sa che cos'è e a cosa serve Soldi, 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 tanti soldi Beati siano i soldi, i bene amati i soldi perché Che ha tanti soldi vive come un pascià E a piedi caldi se ne sta Sa che cos'è la Banca d'Italia? Come non so cos'è la Banca d'Italia? Cioè vuol dire? La banca principale dell'Italia E qual è la funzione della Banca d'Italia? Prima cosa è controllare tutte le banche Che nelle tasche ti fanno din 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 La Banca d'Italia sa che cos'è? No Un'istituzione, niente? Non ho il conto con loro quindi non lo so che sia Cosa c'è la Banca di Banca? È la banca delle banche, non so come dire La principale banca che... Che smessa tutte le somme tramite la Banca d'Italia e i comuni Una volta c'erano i gangster Oggi ci sono i bankster È un uomo quello lì? O un cane da slitta? È un cane quello lì? Solo che la differenza tra un cane e un banchiere Che se al cane tiri qualcosa te la riportano indietro Il banchiere col caccio che ti riporta indietro qualcosa Cosa serve la Banca d'Italia? La funzione Deve regolare tutte le altre banche italiane, è giusto? Non è l'organo che controlla pure contro le banche? Secondo ti è utile anche? Sì 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 Sì, mi dico sì Sapendo di preciso la funzione Non ti so dire se è utile o no Controlla la moneta in Italia Il sistema economico Il sistema finanziario E la partecipazione pubblico privato E possiede una quota del 14% della Banca Centrale Europea Lei pensa sia utile? Come istituzione? Con l'Unione Europea no La stessa è una banca centrale Agendo per conto della stessa La possiamo identificare come una vera e propria filiale della BCE Qual è la sua funzione? Ce lo può spiegare? Ma perché mi chiedete questa? Nel sito ufficiale Essa si descrive istituto di diritto pubblico Lo sai che è al 95% a partecipazione di privati? Prima e fra tutte Intesa San Paolo S.P.A., Unicredit S.P.A., Assicurazioni Generali S.P.A. Sì, certo Questo lo sapevo però Qual è il male in questo? Ma la Banca d'Italia non risponde delle sue azioni al Parlamento No, niente È una domanda No, va bene È un fatto che comunque ha la luce del giorno Bensì, a se funziona Basta che funziona Da questo decreto del 2006 leggiamo che l'attuale obbligo si limita nel trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta Le banche sono tutte utili Sono tutte utili le banche? Sono tutte utili sì, senza banche come stiamo Ci troviamo di fronte alla sede di una delle istituzioni più prestigiose, importanti e serie della nostra nazione La Banca d'Italia Ma ma come sono delle banche? Fanno gli interessi dei cittadini quindi Questo non lo so Però, insomma, senza banche Oltre c'è proprio l'ambiente che conserva l'oro del nostro paese, la ricchezza aurea Così la Banca d'Italia E so che non è più la vostra banca nazionale E che è un azionariato diffuso di vari banchieri Non batte moneta Pare che molti non lo sappiano Credo che smisti più che creare Pensa a un mondo senza banche, che sarebbe? Paradiso in terra Se, 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 se E da lo capizzo un peli stilo calcato Bella mia identità